Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nelle riflessioni di oggi parleremo di quello che è il benessere, ma in relazione allo spazio e l'ambiente. Ma ne parliamo subito dopo la sigla. Forza! Per trovare il nostro benessere molto spesso abbiamo due strade da seguire. Sicuramente una percentuale della nostra felicità dipende dalla nostra genetica. Sul serio ci sono degli studi che dicono che il 50% del nostro umore è dato ovviamente da ormoni e tanto altro che fanno parte del nostro organismo, quindi un po' è imputabile alla genetica e all'epigenetica. La restante parte è data per il 30% dei nostri pensieri, ma c'è comunque una parte che è data da ciò che ci circonda, ciò che è intorno a noi. In altri video io ho parlato ovviamente del nostro stato d'animo in relazione a ciò che vediamo attraverso i social, stati d'animo che dipendono appunto dalle persone che ci circondano e che quindi ci trasmettono una certa empatia, un certo stato d'animo. Ma c'è un ultimo argomento di cui ancora non avevo parlato ed è l'ambiente. E quando intendo ambiente intendo proprio l'ambiente fatto di cose, proprio come questo studio. Sono stato diverse volte, ad esempio in studi di alcuni amici, ho visto come sono stati arredati, ho visto le fotografie sulle pareti e così via. E mi sono reso conto che ognuno di noi ha bisogno di crearsi un proprio regno. Non lo sto scherzando, sì, proprio come i re. Ognuno di noi ha bisogno di un regno, cioè un posto in cui si può sentire a casa, in cui può gestire le proprie regole, il proprio mondo, il proprio habitat. Io ad esempio nel mio studio sono particolarmente disordinato, la mia scrivania non ve la farò vedere mai perché è piena di confusione. Ho controller di videogame per videogiochi buttati a destra e a banca, un mare di rotelle e rondelline per sistema attraverso, insomma un caos assurdo. E' così anche nella mia vita privata, ad esempio in casa ho sedie che uso al posto degli attaccapanni perché per me è molto più pratico appoggiare una cosa su una sedia e andarla a riprendere che posarla in armadio o sull'attaccapanni e poi andarla a recuperare. Ma è una questione mia, è così che io gestisco il mio spazio e il mio ambiente che, diciamo, mi circonda. Mia madre ad esempio ha trovato il suo habitat naturale nella cucina, nel senso che anche quando non deve cucinare accende la televisione e ama ascoltare la radio o guardare la televisione in cucina, fatta così. Ma ognuno di noi appunto ha bisogno di un ambiente che può essere quello domestico in cui si crea uno studio, una cameretta, un posto. Immaginiamo ad esempio quando uno è ragazzino molto spesso ha la camera diretta piena di poster. Beh, non è un caso, è un modo in cui noi costruiamo il nostro regno in base alla nostra fantasia, a ciò che ci fa stare bene. Il poster di un attore o di un'attrice famosa ci provoca ad esempio benessere guardandolo. Da grandi arredare casa in un determinato modo ci può creare una certa tranquillità, la scelta dei colori e così via. Una cosa su cui voglio portare un particolare accento è la capacità adesso, che si sta sviluppando nell'epoca moderna, di creare un arredamento funzionale. Adesso i mobili non sono solamente funzionali, non sono solamente estetici, ma sono il connubio di queste due cose. Un arredamento bello da vedere, che gestisce lo spazio in un determinato modo, ma che abbia anche una certa funzionalità. Io adoro quei mobili, quegli oggetti o quelle cose che hanno più di una funzionalità, che non sono semplicemente oggetti di arredamento estetici o solo funzionali, ma che possono fare più cose, possono essere utilizzate in diversi modi e in diversi ambiti. Ad esempio, un letto a scomparsa può essere simpatico come elemento di arredamento della casa, uno ha un letto che può scompare e lo spazio può essere utilizzato in più modi. Quando ad esempio sono stato a New York è una cosa che mi ha molto colpito, il fatto che c'era questo letto matrimoniale interno di un piccolo studio e poi poteva essere chiuso all'interno dell'armadio e lasciare tutto lo spazio per fare altre attività. C'era un piccolo tavolino che poteva essere piegato e praticamente nascosto e quello poteva essere tirato fuori solo nel momento dei pranzi e delle cene. E una cosa che mi ha incuriosito, mi ha colpito questo spazio, che nonostante fosse molto piccolo, era anche molto molto funzionale. Non era adibito ad una sola funzione, ma c'era diversi tipi di funzionalità anche in uno spazio ristretto, così come ad esempio un camper può avere in uno spazio molto limitato diverse possibilità. Perché sto parlando di spazio e di ambiente? Perché per quanto il nostro ambiente possiamo gestirlo noi, possiamo costruirlo noi, a nostra immagine e somiglianza e creare il nostro regno, da solo non basta. Noi sicuramente dobbiamo investire del nostro tempo e a volte anche dei soldi per creare un ambiente, una casa in cui tornare, ma altre volte potrebbe non bastare. Per avere benessere abbiamo bisogno di andare fuori. Ed è lì che poi nasce l'esigenza di viaggiare, vedere posti, vedere città. Nel mio caso io mi rilasso molto in riva al mare. Penso che molte gente si rilassi in realtà così. Però le onde che si infranguano sulla spiaggia, il rumore dell'acqua che scorre, del vento, e a volte sì anche quei maledetti gabbiani mi stanno simpatici, polli di mare maledetti, mi rilassa, mi rilassa tanto. Quindi quando sono confuso, quando sono agitato, anche quando non ho ispirazione, in genere mi piace prendere la moto e andare a fare un salto nella spiaggia più vicina, che posso trovare dove sono. Altre volte mi piace guardare sole tramontare in spiaggia. Sì, sono un tipo da spiaggia. Però nel mio caso anche la montagna e la natura hanno il loro fascino. Quando ad esempio voglio fare una lunga passeggiata e non posso arrivare in moto al mare, mi piace trovare un parchetto, un bosco o una montagna da utilizzare per una passeggiata. Passeggiare nella natura e immerso nei suoni e nei colori della natura mi portano un certo senso di tranquillità. Mi permettono di staccare da quello che è l'attività giornaliera. È un bel break. Quindi spezzare, cambiare ambiente, mi aiuta in questo caso ad esempio a sentirmi meglio. Altre volte invece l'ambiente influisce su quello che dobbiamo fare. Perché ci iscriviamo in palestra? Perché uno vuole andare in palestra? Io sono benissimo in grado di allenarmi a casa. Conosco tutti i tipi di tecniche per allenarmi a corpo libero. Ho una serie di attrezzi che potrei utilizzare in qualsiasi momento, ciclette, eccetera. Ma mi manca la concentrazione. A casa, siccome è lo stesso ambiente dove molto spesso faccio altre cose, non ho la stessa concentrazione che ho nell'andare in palestra. Cioè uscire di casa per svolgere un'attività dedicata a una determinata cosa mi permette di concentrarmi di più. E quindi in palestra, concentrandomi di più, riesco a svolgere meglio la mia attività. Creare spazi dedicati ai nostri bisogni ci permette di svolgerli al meglio. E quindi l'ambiente influisce anche su come possiamo ottenere il migliore rendimento possibile in determinate situazioni. Ed è lì che poi nasce la rottura di scatole dell'ufficio. Mi spiego meglio. In questo periodo si parla molto spesso di smart working. Ma il smart working deve essere collegato molto alla nostra capacità di separare le cose. Se lavoriamo a casa, dobbiamo lavorare. Non siamo a casa. Lo so, sembra brutto da dire. Io adoro lavorare dove capita. Però riesco ad esempio a separare le cose. Già il fatto di vestirmi, mettere le scarpe e organizzare le attività da fare mi permette di separare le due cose. Ma non è così per tutti. E' altrettanto vero che andare in ufficio permette di staccare. Non è solo perché il capo ci controlla, ma perché stacchiamo. La nostra mente switcha dalla modalità a casa alla modalità al lavoro. Se riusciamo a fare la stessa cosa a casa, ben venga. Se abbiamo uno studio in casa, quindi usciamo dalla camera da letto, dalla cucina, andiamo nello studio e il suo cervello switcha in modalità al lavoro, benissimo. Ma se ad esempio dobbiamo lavorare il nostro portatile nella nostra camera da letto, potrebbe essere rischioso. Non dico pericoloso, però rischioso, perché potrebbe venirci voglia di fare una mezz'ora di sonno, potrebbe venirci voglia di distrarci, di fare altro, di prendere qualcosa. Potrebbe anche essere una fonte di ispirazione, perché a volte nella nostra stanza, nel nostro regno abbiamo la migliore ispirazione possibile. Quindi, devo dire la verità, dipende molto da quello che è la nostra capacità interiore di gestire il tempo, di gestire le cose. Però è un consiglio che vi do di stare un pochino attenti. Detto questo, spero che la riflessione si sia capita. Il mio consiglio è di creare un ambiente adatto a noi, di trovare ambienti che siano adatti a noi, di staccare, di spostarci da un ambiente a un altro a secondo del nostro stato d'animo. Proprio come con la musica. Noi possiamo mettere una musica triste quando ci sentiamo tristi e vogliamo accompagnare la nostra tristezza, o possiamo mettere una musica felice quando siamo tristi per switchare, per cambiare il nostro stato d'animo. Allo stesso modo, cambiare ambiente, spostarci da una stanza ad un'altra della casa, può aiutarci a cambiare la nostra modalità, il nostro, diciamo, spirito interiore. Uscire di casa e andare a fare una passeggiata nei boschi o andare al mare potrebbe permetterci di switchare questo stato d'animo da infelice a felicità o da relax al lavoro. Ok? Quindi, un cambiamento adeguato del nostro ambiente a quello che, diciamo, vogliamo fare. Ultimo consiglio, che non c'entra niente con lo stare bene. Lo spazio è importante anche nella fotografia e nel videomaking. Se pensiamo, ad esempio, alla posizione che occupo all'interno di una camera, il messaggio che voglio trasmettere cambia allo stesso modo. Quindi trovare un ambiente adatto al messaggio che vogliamo trasmettere è importante per comunicare. A volte anche scegliere... Ecco, faccio questo esempio. A volte anche il posto che noi scegliamo per il primo appuntamento con una persona è molto indicativo del tipo di persona che siamo. Se io, ad esempio, sono un nerd e voglio invitare una ragazza nel mio mondo, probabilmente la inviterei a prendere un caffè in un locale a tema, tipo Batman o una roba del genere. Oppure potrei invitare qualcuno a andare per la prima volta in fumetteria. Lo so, può sembrare strano, ma è così. A una fiera. Se invece sono una persona molto più allegata all'arte, potrei creare una prima serata in teatro. Oppure anche quando si esce con gli amici. Il posto che noi scegliamo è veramente indicativo della nostra personalità, perché rispecchia un po' i nostri gusti. E quindi è anche un biglietto da visita, che spero sia il biglietto da visita migliore possibile. Detto questo, ragazzi, se questo video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e condividete con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale. E con me, se va. Ci vedremo nel prossimo video. See you next!